Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, bentornati per quelli che mi seguono già Andiamo avanti con la Deco Week e eccomi qui con il terzo video Oggi vi mostrerò come creare in modo facile e veloce una ghirlanda fuori porta Ovviamente niente di nuovo, ma cercherò di realizzarla utilizzando dei progetti che abbiamo imparato a fare nei video precedenti Partiamo subito! Sto utilizzando una ghirlanda in vimini del diametro di 25 cm Ho preparato del pannolenci stampato Sono tre strisce ritagliate della misura 40 di lunghezza e 4 di altezza Primo piccolo nota bene, credo si veda anche nel video Fate in modo, se utilizzate anche voi del panno stampato a righe Che la prima riga, cioè il primo colore, sia anche l'ultimo a terminare In modo da dare un effetto un po' più uniforme nella decorazione, altrimenti sembra un po' strano Invece così almeno dà effetto come fosse nastro Benissimo, allora prendo le mie tre strisce Le unisco con un po' di colla in questo modo, con un piccolo leggero sormonto Procedo La prima striscia e unisco Ed anche la seconda Perfetto, premiamo un po' che fa presa la colla Adesso con la striscia lunga che abbiamo creato andiamo a decorare la nostra ghirlanda Quindi come fosse un nastro Passerò all'interno della mia ghirlanda E faccio uscire ogni volta Ecco qua che vi mostro bene Teniamo bloccato da un lato Andiamo avanti Poi ovviamente se utilizzerete una ghirlanda più grande servirà più panolenci Benissimo E andiamo a chiudere il tutto Con un goccio di colla Benissimo Anzi, controllate un attimino Allora, si vede nel nostro caso un'unica sola giuntura Direi di tenerla verso il basso E poi andare a coprirla con la decorazione E dunque Qui, essendoci del panno a sufficienza sul retro Vado a fare una cosa di questo tipo Incollo E sono sul retro della ghirlanda Per non far vedere un'altra giuntura E poi andrò a tagliare via Ecco qua che torno qui Il panno, che saranno qualche centimetro In eccesso Lo taglio via Perfetto Quindi siamo riusciti a fare il giro E si vede sul davanti Un'unica giuntura Che è questa qui Mi raccomando Tenetela verso il basso Secondo passaggio Ho preparato un po' di gavetta O cordina Circa 80 centimetri Che ci servirà per appendere la ghirlanda Unisco i due capi Faccio un nodo Con entrambi In modo da chiudere la gavetta Passerò adesso In questo modo Passo sopra sotto Per creare appunto il mio appendino Perfetto Adesso Altra cosa Vi ricordate le casette in panolenci Imparate a fare l'anno scorso Senza cucire? Ecco io ne ho già preparata una Con una leggera modifica Nel senso che Al posto del tetto Come avevo fatto vedere nel tutorial Ci ho messo del pizzo Per chi non l'avesse visto Comunque qui sotto Poi trovate il link al tutorial Vi dico la misura Che ho utilizzato Per crearla Del pannolenci Misura un millimetro Sto utilizzando il panno annuvolato Che è un colore nuovo Che mancava E è un rettangolo 34x10,5 Il punto di taglio del tetto È a 12,5 cm Comunque come sempre Poi troverete tutte le misure Qui sotto nell'info box Perfetto Prendo un ulteriore pezzetto di gavetta Piccolino Vado ad incollarlo Era da fare prima Comunque Essendo che avevo già preparato La casetta Ho saltato al passaggio Vado ad incollarlo O sul retro Comunque Tra il tetto E del pizzo Questo spezzone di gavetta La blocco In modo da poterla Appendere Appunto Alla ghirlanda Secondo piccolo Nota Bene Ovviamente Dobbiamo metterla in centro Casomai spostate un po' Il cordino Per appenderla E fate toccare La casetta Sulla ghirlanda Ecco Che sia appoggiata Come vi sto facendo vedere Poi capirete perché Quindi Adesso Taglio a misura La mia gavetta Ed andrò a Fissarla Qui sopra La mia ghirlanda Niente paura In quanto dopo Verrà nascosto Tutto dal fiocco Che mi chiude La parte superiore Perfetto Poi Ho preparato Della lavanda Anche qui Vi lascio il link Al tutorial precedente Quindi Impara l'arte E mettila da parte Ci serve tutto Dunque Una Nella misura Mini Mini Una Mini E due Medie Divise in due Colori Ho già tagliato via Tutti i ferretti Procedo anche con l'ultimo Perché non ci servono Quindi Con il tronchesino Tolgo il tutto Adesso Andrò ad incollarle Sulla base Della mia ghirlanda Andrò quindi A coprire Automaticamente La mia giuntura Posizione Intanto Vi faccio vedere E quindi La casetta Ci sta bene Che sia appoggiata Perché andrò Comunque A fare Questo tipo Di decorazione Sulla parete Della casetta Procedo Con l'incollaggio Metto un po' Di colla Qui E un po' Di colla Lungo tutta La mia lavanda Posiziono Anche la seconda Perfetto E queste due Sono appoggiate Sulla ghirlanda Queste qui Invece Saranno Solo bloccate Sul fondo E casomai Se volete Anche sulla casetta Procedo anche con la piccolina Blocco sulla mia ghirlanda E ci siamo Per chiudere un po' I buchi Arricchire leggermente Ci prepariamo Delle foglie Serve un rettangolo 13x3 cm Piego a metà Parte chiusa Verso il basso Con un taglio Unico Parto stretta Arrivo su In punta Torno giù Dalla punta E arrivo Un po' Più larga Ecco qua Abbiamo creato Una foglia doppia Io le ho già Preparate Due Nella tonalità Chiara Che è il verde Mela Pastello E due Nel verde Nuvolato Andiamo ad incollarle Su se stesse In questo modo E poi andiamo Ad applicarle Vicino alla nostra lavanda Intanto le preparo Vediamo quante Ce ne serviranno Ci siamo Proviamo un attimo Dunque Ne metterei Una di qua Una un po' Di qua Scusate Faccio anche io Delle prove Perché A dire la verità Questa ghirlanda La sto facendo In diretta Quindi non ne ho mai Realizzata una prima E quindi La facciamo Proprio insieme Direi Ecco Mi ero preparato Il materiale Più o meno Poi ovviamente Bisogna capire Un attimo Strada Facendo cosa fare Direi che Andiamo a mettere Una foglia Di qua E siamo quasi Arrivate Alla fine Poi come sempre Aspetto le vostre Personalizzazioni Adoro vedere Quello che riuscite A creare Prendendo spunto Ed escono sempre Cose Diverse Nuove E molto Originali Perfetto Benissimo Ultimo passaggio Dunque Ho preferito Qui Non mettere Del nastro In quanto C'è tutto Panolenci Tutto un po' Rustico Quindi Nastri Sgargianti O cose così Non mi piacevano Dunque farò Il fiocco Nello stesso materiale Quindi Pannolenci Abbinato Ovviamente Di colore Quindi Lilla E viola Due rettangoli Anche in questo caso Quindi sagome Semplicissime Da ritagliare E Il lilla È 14x8,5 Il viola È più piccolo Ed è 10x7 Mi aiuto Sempre Con un po' Di gavetta Beige Come in precedenza Circa Sempre 80 cm Sovrappongo I due rettangoli Stringo Al centro Leggo Il fiocco Con appunto La gavetta Faccio Due nodi Tirate Bene Benissimo E andrò Ad Incollarlo Qui sopra Sul davanti Poi Chiudiamo Con la decorazione Benissimo Un po' Di colla Così In un Colpo Solo Nascondiamo Il filo Per appenderla E anche Il filetto Con cui abbiamo Applicato La nostra Casetta E sembra Tutto quanto Attaccato In un unica Volta Perfetto Qui Ho qualche Applicazione In ottone Cuoricini Chiavi Andrò ad infilarle Sul mio Cordino Per dare Sempre un attimo Un tocco rustico Procedo Anche con Questo E quindi Termino Con Un nodo Ecco qua E il fiocchetto Finale Chiudo Con due Nodini La mia Gavetta Taglio Via La lunghezza In eccesso Ed ecco qua La mia Ghirlanda Fuoriporta Con la casetta Al centro E la lavanda È terminata Direi Semplicissima E velocissima Bene Ragazzi Spero che vi sia piaciuta La mia idea Ovviamente Niente di nuovo Però magari Insomma Vista Con qualche Idea particolare In più Vi ringrazio Per aver guardato Il video Vi ricordo Che trovate Il materiale Che utilizzo Nel mio video Sul mio negozio Online Il diamantoshop.com E ci vediamo domani Con il prossimo video Della Deco Week Ciao a tutti Alla prossima